Buonasera e bentornati a Millibar. Dallo studio di Termoli questa sera affrontiamo un tema che sugli scudi se ne parla dappertutto, ovunque la data del 4 dicembre sembra una data spartiacque nella storia politica italiana e anche e soprattutto in quella della nostra Costituzione. Parliamo quindi del referendum costituzionale a cui sono legate molte cose, sono legate le modifiche alla Costituzione, l'assetto di governo, la struttura del nostro Parlamento e sono legati anche il futuro politico di coloro che hanno promosso questa riforma osteggiata da molti ma ben voluta da altrettanti. Ne parliamo stasera con una serie di confronti che porteremo avanti qui a Millibar con rappresentanti del sì e rappresentanti del no. Questa sera abbiamo Antonio D'Ambrosio con noi ma esclusivamente nella sua veste di storico nel corso della trasmissione. Antonio ripercorrerà, ci riproporrà alcune delle tappe della nostra storia dell'evoluzione costituzionale. Sappiamo che dalla Costituente ad oggi si sono succedute molte riforme, molti tentativi, molte commissioni. Ci racconterà un pezzo di questa storia mentre il confronto diretto avverrà tra coloro che sono i nostri ospiti che io ringrazio l'onorevole Laura Venitelli del Partito Democratico in rappresentanza del sì e Michele Barone portavoce in Molise del Comitato per il no costituzionalista. Ecco, Antonio D'Ambrosio, io comincerei a questo punto con te una breve ricostruzione storica e poi lasciamo la parola ai nostri ospiti. Sì, grazie e un saluto a tutti e ai nostri ospiti che stasera assisteremo con interesse alle motivazioni del no e del sì. È imprescindibile, per avviare anche un'argomentazione, per dare anche ai nostri telespettatori un punto di riferimento, come nasce la Costituzione italiana. Sono due o tre punti fondamentali. Dopo il disastro della guerra e del fascismo, i Comitati di Liberazione Nazionale governano questo Paese per un periodo di tempo, i partiti si ricostituiscono e viene indetto un'elezione per rinnovo del Parlamento, ma anche per eleggere 556 cittadini italiani con il compito di fare la nuova Costituzione che abrogava la vecchia Costituzione derivante dallo Statuto Albertino dei Savoia e dell'Italia e del Regno d'Italia. Qui parte il dibattito e il confronto. Per la verità ci furono 174 riunioni, 222 riunioni delle commissioni, miriade di sottocommissioni, i costituzionalisti. Si fu fatta una commissione dei 75 che dovevano redigere materialmente poi lo scritto e gli articoli che venivano provosti ed approvati. Insomma, ci fu un lavoro intenso che ci portò fino al 1 gennaio del 1948 dove venne approvata ed entrò in vigore la Costituzione. I punti di riferimento è stato, giudicato adesso con gli occhi della storia naturalmente, di un profilo straordinariamente alto, perché forse eterogene che si incontrano per rifare le regole comune, le regole per la casa comune. Naturalmente si capisce bene il tipo di ragionamento che si è dovuto fare. Ognuno ha dovuto cedere un pezzo della sua identità, dei suoi ideali. Questa perdita di parte di ognuno dei cittadini rappresentanti di pezzi di identità ha formato una nuova identità della casa comune. E queste regole hanno questo carattere. L'altro carattere che ha è una Costituzione antifascista, specificatamente, come dire, nasce da questo elemento di forza, uscendo da un disastro come quello che fu allora il fascismo, e ha questa caratteristica ed è una Repubblica parlamentare, che ha una visione sotto ogni profilo dove la centralità non è il governo, non è il Presidente della Repubblica, ma sono i cittadini e il Parlamento che li rappresenta. I rappresentanti del Parlamento sono i due rami del Parlamento, Camera e Senato, che svolgono, che hanno svolto, i stessi comiti. Questi sono gli elementi fondanti e attorno a questo si è sempre discusso dopo l'approvazione che la Costituzione poi prevede, sono 139 articoli, prevede la possibilità di modificarlo, di aggiornarlo, ed è sempre giusto, in alcune parti, in alcuni titoli della Costituzione. E c'è una procedura sotto questo profilo per poter aggiornare la Costituzione e negli anni, e io mi fermerei al 63 per dire dove quando è stata fatta l'autonomia della regione Molise, per esempio, che nel 48 non c'era, nel 63, il 27 dicembre del 1963, venne approvato l'autonomia della regione Molise e si forma in questo caso la regione Molise, che prima era Abruzzo e Molise. Questo è un dato. L'altro aspetto che mi preme ricordare, e chiudo, di questa prima parte della Costituzione, dove il livello fu altissimo sotto ogni profilo, ancora oggi in materia di studio, credo che Barone recentemente ha fatto proprio questo studio, la tesi proprio sulla Costituzione italiana, il dibattito parlamentare è ancora una fonte di ispirazione ideale politica. E su questa fonte ideale politica e sulla metodologia messa in campo del trovare il consenso di tutte le parti che giocavano questa partita, i partiti politici, c'è uno straordinario contributo di due molisane, in modo particolare dell'onorevole Colitto, che allora era stato eletto dall'uomo qualunque addirittura, ed era un partito, come dire, qualunquista, la parola stessa stava a significare il modo di ragionare, di Giannini, che era il segretario del partito e fondatore del partito, che a sua volta, per esempio, su alcuni articoli della Costituzione, in modo particolare su come organizzare le considerazioni della parte prima, in modo particolare, il titolo prima della Costituzione, sul ruolo della democrazia, sul ruolo del lavoratore, quindi il rispetto della Repubblica fondata, eccetera, eccetera, un contributo straordinario. E l'altro è Camposarcuno, che sulla scuola partecipò, in modo, come dire, degno di questa regione, a quel dibattito. Bene, grazie ad Antonio D'Ambrosio per questa introduzione storica, che proseguirà nel corso della trasmissione e nel corso delle altre parti. Adesso iniziamo il confronto tra i due rappresentanti del sì e del no, che chiaramente si alterneranno a vicenda per quel che riguarda la prima domanda. Allora, io comincerei con le ragioni del sì. Una domanda generica su questa riforma. Perché sì e successivamente, perché no, poi entreremo nel dettaglio tecnico. Onorevole Venitelli, lei ha partecipato in prima persona a questo processo di revisione costituzionale, ha vissuto direttamente in Parlamento quella che è stata l'evoluzione, le varie fasi, gli scontri, i confronti che ci sono stati. Siamo arrivati a questa data fatidica del 4 di dicembre. Perché sì, allora? Ma, guardi, i motivi perché è un sì sono tantissimi. Io, intanto, mi voglio un attimo riagganciare a quello che è stata adesso la illustrazione storica che ha fatto Antonio D'Ambrosio. Un'istituzione storica che ci ha appunto introdotto quella che era l'Assemblea Costituente, l'Assemblea dei nostri partigiani, che portava, perché questo è un dato storico dal quale non si può prescindere quando si parla, io amo sempre dire che si parla di aggiornamento della Costituzione, che noi siamo intervenuti sulla terza parte della Costituzione, quella che riguarda gli organi dello Stato. Dicevo appunto, non si può prescindere da quel passaggio. Già all'interno dell'Assemblea Costituente ci fu la precisa volontà di individuare con l'articolo 138 della Costituzione una ipotesi, diciamo, una, come dire, un meccanismo di revisione. E dal primo di gennaio del 48 ad oggi, ben 16 sono state le revisioni della nostra Costituzione. Noi siamo intervenuti sulla terza parte della Costituzione, perché la prima parte è quella dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Io spesso lo dico, insomma, mi piace anche ripeterlo, che la prima parte, quella dei principi fondamentali, è quella che caratterizza il DNA della nostra Repubblica. L'articolo 1, che dice l'Italia nella Repubblica democratica fondata sul lavoro, da qui c'è le norme che riconoscono che il nostro è uno Stato laico, le norme che ripudiano la guerra. E poi la seconda parte, quella dei diritti, quella relativa alle libertà, la libertà di opinioni, di manifestazione del pensiero, di organizzarsi con associazioni sindacali, il diritto di potersi curare, il diritto di poter manifestare i propri poteri e le proprie possibilità sulla proprietà che appartiene al cittadino, parti prima e seconda sulla quale non solo non si è intervenuto, ma non si aveva nessun interesse di intervenire. Bisogna però, ecco, aggiornare quella Costituzione nella parte relativa, nella parte terza, quella della organizzazione dello Stato, ovvero nella terza parte che viene intitolata il Parlamento, il Capo dello Stato, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, le regioni, province, comuni, il CNEL e la Corte Costituzionale. Questa è la parte sulla quale noi siamo intervenuti con un necessario ragionamento e mi ha chiesto perché sì, perché sono 70 anni che se ne parla, già da tre anni dopo l'entrata in vigore di questa Costituzione, i padri della Costituzione, i veri partigiani di allora dicevano che questa Costituzione era una Costituzione fatta per uno Stato che non avrebbe potuto fare le riforme, per uno Stato lento, lo diceva Togliatti nel primo congresso del Partito Comunista, lo diceva Dossetti nel congresso dei giuristi cattolici a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Perché lento? Uno Stato che ha due Camere, Camere dei Diputati e Senato della Repubblica e che hanno le stesse funzioni che sono due Camere di fotocopia, chiaramente non può essere uno Stato veloce. Diciamo, è in re ipsa questa cosa, è stare le cose. Io faccio un esempio continuo in tutti gli incontri che faccio ed è quello che io ho vissuto più da vicino del collegato agricolo, una legge che doveva affiancare la legge di stabilità di Enrico Letta, entrata in vigore il primo di gennaio del 2014 e che doveva appunto introdurre una serie di norme utili per l'agricoltura, per sburocratizzare l'agricoltura. Tutti eravamo d'accordo, tutto l'arco costituzionale, sulla necessità che questa legge si approvasse in fretta, tra la Camera dei Diputati e poi passata al Senato della Repubblica che ha modificato una parte e quindi necessariamente è dovuta tornare alla Camera dei Diputati perché vorrei ricordare che una legge si approva quando la Camera e il Senato approvano lo stesso identico testo. Se si cambia una sola virgola in una delle due Camere c'è l'obbligo di passarla a quella che l'aveva esaminata per prima per intervenire sulla modifica. Dicevo, nel collegato agricolo una legge necessaria per aiutare i nostri agricoltori a ridurre il numero delle giornate che dedicano per la burocrazia, che oggi sono 100 giornate in un anno lavorativo, tutti eravamo d'accordo, ci abbiamo impiegato quasi 3 anni, 880 giorni, perché nei passaggi tra Camera e Senato ci sono state le modifiche e poi si è dovuto ritornare su quello che era il testo modificato. Si capisce bene che se per fare una legge dove tutti sono d'accordo, ci impieghi 3 anni, è chiaro che oggi con un sistema che si muove sul web, su un sistema globalizzato, la tempistica dei processi legislativi italiani non stanno in linea con quella che è la velocità del Paese. Questo è il tema principale. Poi vogliamo raccontare che sono 70 anni che si parla della rivisitazione di questo modo di fare le leggi che vedono due Camere con gli stessi identici poteri. Nell'Assemblea Costituente lo vorrei ricordare ai partigiani che mi ascoltano oggi, che partigiani di allora, i partigiani di allora, e mi piace ricordare sempre quello che aveva preso un po' il ruolo di capogruppo all'interno della seconda sottocommissione, quella che appunto parlava del bicameralismo, la Rocca, un famoso avvocato partenopeo del Partito Comunista, eletto nelle file del Partito Comunista, ribadiva in ogni occasione nella quale poteva farlo che i comunisti, non comunisti, partigiani, non erano favorevoli al bicameralismo e che solo nell'ipotesi in cui, questo diciamo è scritto negli atti dell'Assemblea Costituente che sono consultabili sul sito della Camera dei Deputati, che solo nell'ipotesi in cui si sarebbe poi chiusa l'accordo sul bicameralismo, la seconda Camera non poteva essere identica alla prima né dal punto di vista dell'elettorato attivo, cioè chi la vota, né dal punto di vista dell'elettorato passivo, chi si fa votare, e che era opportuno nel momento in cui si sceglievano le regioni, perché le regioni sono state scelte con la Costituzione, si sceglievano le regioni puntare su un Senato regionalizzato con la rappresentanza delle regioni e la rappresentanza dei comuni. Allora loro dicevano con un'elezione indiretta. Quella che in verità fu poi la proposta che ha presentato il Governo con questo disegno di legge delega, chiedo scusa, con questo disegno di legge costituzionale, sul quale il Parlamento ha lavorato e che il Parlamento ha di fatto modificato, perché tutti sanno che la modifica che c'è stato con l'emendamento Finaschiaro consente al popolo italiano di scegliere i propri senatori regionali. Questo per dire che già allora i partigiani di allora avevano ben compreso che non si poteva accompagnare alla Camera dei Deputati un Senato che avesse le stesse identiche funzioni e che vi era necessità di far partecipare alla formazione delle leggi, questo anche per risolvere quelli che sono i contenziosi che poi si sono verificati e che si continuano a verificare ogni giorno tra lo Stato e le regioni. Abbiamo più di 8 mila pendenti davanti alla Corte Costituzionale. Dicevo, proprio per far partecipare le regioni nel processo di formazione delle leggi. Se la regione partecipa, vorrà dire che ha dato il suo contributo soprattutto su quelle che sono le leggi che hanno una valenza di carattere territoriale, così come oggi. Lei mi ha chiesto perché, perché il sì. Io, oltre che cercare di spiegare come funziona oggi il processo di formazione delle leggi, perché l'ho visto sulla mia pelle, io pensavo una volta arrivata in Parlamento che potessi dare un contributo forte su quelle che erano i temi, le questioni che mi stavano più a cuore. Mi sono resa conto poi nel tempo che purtroppo proprio questa duplicità, questo si chiama bicameralismo, due camere, che fanno esattamente la stessa cosa, queste due camere fotocopia, sarebbe stato un freno, come di fatto è, su tutte le cose che vogliamo fare. Reato di tortura? Sono quattro legislature che viene approvato dalla Camera dei Deputati, va al Senato della Repubblica e il Senato non le esamina. Il reato e la legge sui piccoli comuni? Sono quattro o cinque legislature che la Camera dei Deputati ne approva, va al Senato e il Senato dà altro da fare. Io la dico così, io penso che oggi questo Paese con le tante difficoltà che ha non se lo può permettere le attese, non si può permettere i ripensamenti, che si pensi bene, si pensi in maniera adeguata, in maniera forte, che ci si metta anche più tempo in una sola Camera, ma che si faccia e si faccia in fretta. Bene, grazie Onorevole Venitelli, è stato un intervento ampio, compiuto, è stato spiegato con dovizia di particolari quella che è la ragione del sì. Dottor Barone, lei è il portavoce del Comitato Molisano per il no, ha sentito quelle che sono state delle osservazioni dell'Onorevole Venitelli su quello che non va in questa Costituzione, ci dica adesso lei quello che non va in questa riforma. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Avevo preparato una introduzione più generale di analisi sulla situazione della politica prima di entrare nel particolare della riforma, però sono stati toccati tanti punti, allora vorrei ribaltare il mio intervento. Entriamo prima in media stress sui punti, i tanti punti che ha toccato l'Onorevole Venitelli. Anzitutto, insomma, io fossi nell'Onorevole Venitelli, avrei un po' di imbarazzo a venire qui a dire che sulla proposta di legge a cui faceva riferimento, e cioè quella sull'agricoltura, nonostante fossero tutti d'accordo, non si sia riuscita ad approvare, perché il sistema del bicameralismo perfetto, che ha tutti i limiti del mondo, però consente a una legge di passare anche in due giorni, se c'è l'accordo politico. Quindi io non capisco come l'esistenza di un accordo politico possa aver ostacolato l'approvazione di una legge. sul reato di donio... Doni, sono 70 anni che è così. Non lo fa poi caso mai, si replica nel... No, io ho detto quello che avrei provato... Al posto mio l'imbarazzo, insomma... Non volevo offendere... Scusi, Onorevole, non volevo offendere. Però l'ho fatto. Io ho detto quale sarebbe stato il mio stato d'animo se fossi stato un Onorevole. Tutto qui. Poi è chiaro che il suo stato d'animo è un altro, ma non è che... Proverei un po' di imbarazzo a dire questa cosa e a imputare la causa della non approvazione al bicameralismo perfetto, che consente agli onorevoli di approvare le proposte di legge qualora c'è l'accordo politico. Lei stessa ha detto che c'era l'accordo politico, quindi non capisco. Sul reato di tortura è colpa della politica se non si è approvato il reato di tortura, non del bicameralismo perfetto, perché se una maggioranza è coesa, una maggioranza ha il consenso nel Paese e ha una forza politica, la legge si approva subitissimo. Un altro aspetto su cui credo ci sia stata almeno un'imprecisione, e cioè il fatto che l'articolo 138, che è quello che prevede la revisione costituzionale, consenta di revisionare un terzo, se non di più, della Costituzione. L'articolo 138 dice che la maggioranza dei costituzionalisti serve per adeguare ai tempi la Costituzione, non per stravolgerla, come io vorrei dimostrare che questa riforma causa lo stravorgimento della Costituzione. L'elettività del Senato. Il Senato non sarà elettivo, perché la stessa onorevole Finocchiaro, quando è stato sollevato il problema della non elettività del Senato contro l'articolo 1 della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al popolo, e su questo punto è chiaro che la seconda parte riesce a influire sulla prima, anche se non formalmente, quando viola i principi fondamentali. La stessa onorevole Finocchiaro, io ricordo che disse, se noi introducessimo l'elettività del Senato, verrebbe meno il carattere della riforma. E quindi, io lo ricordo bene, quindi l'elettività non c'è, o quantomeno c'è una formula, che poi leggerò, che nello stesso articolo introduce una contraddizione. Cioè, nella prima parte dice che i senatori sono nominati dai consiglieri regionali, tra i consiglieri regionali e i sindaci. Nella seconda parte dice, inconformità alle scelte degli elettori. Ora, io non capisco come queste due parti, in contrasto tra di loro, potranno funzionare, perché delle due l'una. O il Senato viene nominato dai consiglieri regionali, oppure se viene eletto dai cittadini, che bisogno c'è della ratifica dei consiglieri regionali per le scelte dei cittadini. Quindi, quantomeno c'è una contraddizione. E non ci dimentichiamo che per diventare senatore bisogna essere o consigliere regionale, oppure sindaco. Quindi, i cittadini non potranno più diventare senatori, soltanto i politici potranno essere senatori, in particolare i politici locali. E sul fatto del Senato delle Regioni, vorrei dire che il Senato delle Regioni sarebbe stato possibile, qualora gli eletti in Senato avessero avuto un collegamento giuridico con i territori e con le regioni che l'hanno eletto. Si dice spesso che il Senato delle Regioni sarà come il Bundesrat della Germania. Ecco, io questa la trovo un'improprietà tecnica, perché nel Bundesrat della Germania, che è la Camera Alta, sono rappresentati i governi regionali, i quali mandano i propri delegati, i quali delegati hanno l'obbligo giuridico di conformarsi alle scelte che vengono prese a livello regionale. Cosa che non avverrà in Italia, perché i consiglieri regionali, una volta eletti, non avranno alcun collegamento giuridico col territorio, potranno esercitare il loro mandato come vorranno, senza dover rendere conto alle assemblee regionali che li hanno eletti. E qui c'è un'incongruenza tra queste due situazioni. E non è vero che sarà rappresentanza territoriale, perché appunto la rappresentanza territoriale, se c'è un vincolo di mandato, è tale. Se invece non c'è, sarà parimente, come la Camera dei Deputati, una rappresentanza politica. Cioè, i senatori eletti, per esempio, nel Molise, poniamo, ci sarà un senatore eletto nelle file del Partito Democratico, un senatore eletto nelle file del centrodestra, ipotizzo ovviamente, questi due senatori entreranno a far parte dei gruppi di partito. Non faranno gli interessi della propria regione, ma voteranno conformandosi alle scelte del partito che va da nord a sud. E quindi è un'improprietà. Rispetto, invece, a quanto detto, a un'altra parola sul bicameralismo, che non viene abolito, viene solo cambiato e, come dicono molti professori di diritto costituzionale, viene complicato. Adesso non vi leggo l'elenco, anzi, forse è meglio che ve lo legga, l'elenco dei procedimenti legislativi. Oggi è uno, molto semplice, per quanto perfettibile. I procedimenti legislativi diventeranno dieci, e ve li leggo. Procedimento di tipo bicamerale paritario, procedimento di tipo monocamerale, procedimento di tipo monocamerale rinforzato, procedimento relativo ai disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, procedimento abbreviato per ragioni di urgenza, procedimento a data certa, procedimento di approvazione delle leggi di conversione dei decreti legge, procedimento conseguente alla richiesta del Senato ex articolo 71, secondo comma, Costituzione. Non continuo, perché questo è un tipo di tecnica di redazione costituzionale, che è un tipo che fa sì che i cittadini non possano capire qual è il sistema. Lo possano capire, forse, solo gli addetti ai lavori. Ed è stato lo stesso sistema adottato per la riforma nel 2001 dei rapporti Stato-Regioni. Se voi andate a vedere l'articolo 117 originario della Costituzione del 48, e quello introdotto nel 2001 dalla stessa maggioranza, o quasi la stessa maggioranza parlamentare, che oggi vuole rimodificare la Costituzione, l'articolo 117 originario era molto breve e chiaro. L'articolo 117 riformato nel 2001 è diventato quasi un lenzuolo. Ed è questo che ha causato una serie di conflitti tra Stato e Regioni che ha dovuto redimere la Corte Costituzionale. Lo stesso tipo di tecnica redazionale della Costituzione vuole essere adottato per il procedimento legislativo. Ed è dimostrato dal 2001 che è una tecnica che funziona male, che non funziona. Allora io dico, è vero che le riforme si possono fare, onorevole, però vanno fatte anche bene, sia nel metodo che nel merito. E io penso che una riforma che toglie ai cittadini la possibilità di votare i propri rappresentanti, parentesi, vi siete accorti che è cambiato il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale di Campobasso? Credo di no. Antonio Battista, che è una persona che io stimo e rispetto, è diventato presidente della Giunta Provinciale di Campobasso. Nessuno se ne è accorto. Lo stesso metodo avverrà per l'elezione del Senato, che continuerà a fare una parte di legge al pari della Camera e altre leggi, anzi tutte le leggi, potranno essere richiamate dal Senato. Quindi il bicameralismo non viene abrogato e concludo. Quindi io dico che le riforme vanno fatte bene nel metodo e nel merito. Si toglie l'elettività del Senato. Si complicano ulteriormente, e poi ci entrerò dopo perché adesso non ho più tempo, i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Vengono diminuite le garanzie costituzionali per l'elezione degli organi, che dovrebbero essere terzi, vengono introdotte delle misure che posso anche ritenere condivisibili, per esempio l'abolizione del CNL, oppure una riduzione molto parziale del numero dei parlamentari, vengono introdotte a mio avviso solo per presentare, per rendere presentabile questa riforma alla cittadinanza, quando in realtà la riforma prevede tante cose che sono quantomeno discutibili. Infatti sui manifesti dei sostenitori del Sì, voi leggete soltanto quelle cose che, si sa, fanno più presa sull'opinione pubblica. Quando troverete la scheda elettorale, sulla scheda vi verrà chiesto volete diminuire i costi della politica senza dirvi minimamente da quali voci di spesa vengono diminuite. È chiaro che tutti vogliono risparmiare, ma in una famiglia anche bisogna capire come si risparmia. Allora, io volevo dare un'idea in questo mio primo intervento. L'idea è quella che questo modo di interpretare il riformismo è un modo purtroppo quantomeno ingannevole, perché mentre la riforma Berlusconi diceva chiaramente, nel 2006, diceva chiaramente qual era l'obiettivo, che era quello di rafforzare il potere nelle mani di pochi, io ritengo che questa riforma raggiunga sostanzialmente lo stesso obiettivo senza dirlo chiaramente. Quindi, paradossalmente, la ritengo ancora più pericolosa. Allora, noi ci dobbiamo armare della capacità critica per riuscire a scovare dove si trova l'elemento ingannevole e spero, dalla mia parte, di riuscire a farlo in questa trasmissione. Bene, e grazie dottor Barone. Si chiude qui la prima parte della nostra trasmissione di Millibar stasera dedicata alla riforma costituzionale e al referendum del 4 dicembre. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo in studio con Antonio D'Ambrosio e con i nostri due ospiti, che lo ricordo sono l'onorevole Laura Venitelli per il sì e il costituzionalista Michele Barone per il no. A tra poco. Bene, eccoci di nuovo in studio qui da Termoli. Millibar stasera si occupa di costituzione, di riforma della Costituzione e facciamo subito una precisazione. Io impropriamente ho chiamato il dottor Barone costituzionalista, ma sono stato bacchettato da entrambi gli ospiti, anche dal dottor Barone. Diciamo, prendiamolo come un auspicio. Il dottor Barone si è laureato con una tesi in diritto costituzionale. Questa è l'esatta, come dire, collocazione. Ed è portavoce del Comitato per il no in Molise. Allora ripartiamo proprio per un principio di alternanza, proprio dal dottor Barone che accennava nel corso del suo intervento al rapporto Stato-Regione. Un rapporto che in realtà con la precedente modifica non ha funzionato. I sostenitori del sì dicono appunto, va rivisto questo rapporto. Dottor Barone, cerchiamo di focalizzarci su questo tema. Che cosa cambierà se passa questa riforma nel rapporto Stato-Regione e che cos'è che non funziona, cos'è che non la convince? Allora, anzitutto partiamo col dire che non cambieranno i profili di problematicità che ha creato l'articolo 117, che risiedevano proprio nella complicazione, proprio lessicale, della distribuzione delle competenze. Cioè l'articolo 117 serve a dire questa competenza appartiene allo Stato, questa competenza appartiene alle Regioni, questa competenza appartiene ad entrambi, cioè lo Stato delinea i principi generali e comuni della disciplina e la Regione individua le norme attuative. Allora, proprio quest'ultima modalità di redazione delle leggi, che è la competenza cosiddetta concorrente, cioè divisa tra Stato e Regioni, come ho appena descritto, è stata la causa di molti conflitti di attribuzione, come l'Onorevole sa molto meglio di me in quanto esercita la professione, di avvocato, se non erro, è giusto. Quindi molti conflitti derivano da chi fa che cosa tra Stato e Regioni. Ebbene, la riforma si propone di abrogare proprio questa competenza concorrente, cioè la riforma dovrebbe dire, questa riforma costituzionale, lo Stato fa questo, le Regioni fanno questo, tutto quello che non è scritto lo fanno le Regioni, questo dovrebbe essere. Però poi andiamo a vedere che quello che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra. Che cosa si dice? Io ho sentito spesso anche il Presidente del Consiglio annunciare che le molte difficoltà, per esempio in tema di sanità, verranno risolte da questa riforma, peraltro facendo anche dei riferimenti un po', mi permetta, di cattivo gusto, riferendosi ai farmaci oncologici, quindi cercando di andare a toccare la carne viva e le motività delle persone. E questo mi ha molto infastidito come cittadino. Però che cosa succederà? Che è vero che la sanità, le leggi in tema di sanità, apparterranno allo Stato, però poi si legge che alle Regioni aspetterà la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali. Quindi sostanzialmente, in modo quasi speculare a come era prima, le Regioni dovranno attuare quelli che sono i principi generali e comuni stabiliti dallo Stato. Per cui, vedete, si può leggere alla lettera M dell'articolo 117 del primo comma, disposizioni generali e comuni per la tutela della salute. Allora, se si fanno le disposizioni generali e comuni, se lo fa lo Stato, quelle specifiche attuative, chi le fa? Lo faranno ancora le Regioni. Quindi questo non cambia che è il profilo di problematicità. Un altro esempio che si fa sempre è il turismo. Il turismo, peraltro, cita anche molto, mi piace molto citare la nostra Regione. Molise, perché deve fare promozione del proprio turismo? Ebbene, si legge sempre nell'articolo 117, alla lettera S, che lo Stato, allo Stato, spetterà la competenza in materia di disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e del turismo. Che cosa aspetta alle Regioni? La valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo. Allora, che cosa significa? Che non è vero che questi conflitti di competenza tra Stato e Regioni verranno risolti. sono stati solo rimescolati, però con quale novità? Ed è questo un elemento ulteriormente nuovo che, secondo me, scusi, un elemento nuovo che introduce ulteriori profili di problematicità. Cioè, con la possibilità per lo Stato di avocare a sé quelle competenze che comunque ristrette, che sono oggi ristrette, quindi alle Regioni vengono tolte molte competenze, però lo Stato le potrà avocare con la cosiddetta clausola di supremazia. Cioè, laddove lo richieda la tutela dell'unità giuridico-economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale, lo Stato può prendersi le competenze delle Regioni. Ora, lasciamo perdere queste formule giuridiche che, diciamo, io adesso inizio a imparare qualcosa di diritto, l'Onorevole è molto esperta, quindi le clausole generali che cosa sono? Sono quelle formule aperte che poi l'interprete deve riempire di significato, l'interesse generale, una clausola generale. Quindi io non voglio criticare questo fatto qui che ci sia una clausola molto generale per cui sostanzialmente lo Stato potrà avvocare a sé quasi tutto. Non è questo il punto. Il punto qual è? Che viene sbilanciato quel rapporto Stato-Regioni che la Costituzione impone debba essere di collaborazione e invece adesso diventerà sostanzialmente una direzione dall'alto e da Roma di quello che dovrà succedere nei territori. Si diceva non tocca la prima parte, tocca l'articolo 5. della Costituzione che fa parte dei principi fondamentali laddove dice che la Repubblica promuove le autonomie territoriali nella gestione della politica nazionale. Per cui qual è il problema? E poi chiudo su questa parte. Che sostanzialmente ci sarà un eccesso di dirigismo e le regioni avranno poca voce in capitolo. Quali regioni? Quelle più sfortunate. Qui si introduce un elemento di irrazionalità. Di irrazionalità. Perché le regioni a statuto speciale, le cinque regioni, lì sì bisognava intervenire con una revisione costituzionale, continueranno, come oggi, a poter avere una competenza enorme nel proprio territorio. per cui la Sicilia, la Sardegna, Trentino Alto Agici, Valle d'Aosta, Friuli, Menzi e Giulia, a differenza delle altre sfortunate 15 regioni, avranno, come oggi, la stessa competenza speciale. Mentre oggi, anche le altre regioni, comunque, avevano un certo dose di competenza e di autonomia, adesso, le altre regioni, praticamente, potranno potenzialmente contare nulla, mentre quelle continueranno ad avere sostanzialmente un'autonomia quasi di tipo federale. Per cui, io quello che dico è che fa parte della visione generale di questa riforma. Il problema del Paese, secondo me, in questi anni, perché non possiamo dire che oggi il Paese sta bene, oggi il Paese non sta bene. E quindi, se non sta bene, dobbiamo individuare la malattia. Qual è la malattia, secondo me? È lo stacco sempre maggiore che c'è tra chi prende le decisioni politiche e i cittadini che dovrebbero essere coloro che controllano chi prende le decisioni politiche. E questo è avvenuto anche a Costituzione vigente, per esempio, con il Porcellum, la legge elettorale Porcellum, dichiarata incostituzionale, sulla base della quale è stato eletto il Parlamento attuale. Quindi oggi in Parlamento ci sono almeno anche più di 100 deputati alla Camera dei Deputati che non sarebbero stati lì se non ci fosse stata quella legge elettorale incostituzionale. e che questi deputati vogliono oggi riformare in maniera così incisiva la Costituzione. Allora, io dico che il Porcellum, esattamente come l'Italicum, che è la legge elettorale approvata da questo Parlamento, esattamente come la riforma costituzionale, vanno in quella direzione, quella di aumentare ancora di più il divario tra la politica e i cittadini. Io credo che questo sia il vero male del Paese. con questa riforma noi controlleremo ancora di meno chi ci rappresenta. E invece noi, e proprio per... Chiudo, voglio solo fare un cappello a questa mia considerazione. Con un contesto socio-economico devastato, cioè a noi, diciamo, mi ascrivo tra i giovani, verrà consegnato un Paese che ai nostri padri, diciamo, con quello consegnato ai nostri padri non ha nulla a che vedere, avere un Paese devastato. Per cui, questo contesto di difficoltà socio-economiche e anche culturali rende difficile per il cittadino interessarsi di temi come per esempio quello della democrazia, che appaiono come temi astratti del metodo democratico. Uno dice, io non c'ho il lavoro, se lo trovo perché sono stati aboliti i diritti sul lavoro quasi del tutto, sono praticamente in una condizione sostanziale di schiavitù. Oppure, se non lo trovo sono disoccupato, se sono povero non posso studiare, io ci sono appena passato, pur essendo idoneo ad avere la borsa di studio, non sono stato beneficiario perché la Regione Molise non investiva i soldi sul diritto allo studio. Se sono, come prima facevamo riferimento, fuori onda, se sono indigente non mi posso più curare. Oggi 11 milioni di persone non possono più curarsi. Quindi tutta una serie di problemi sociali rendono difficile per il cittadino non si investe più sulla ricerca. Iacona ha fatto una inchiesta su quanto si investe sulla ricerca italiana rispetto agli altri paesi che mi fa veramente paura. Quindi questo contesto rende difficile interessarsi di temi come la democrazia. Ma io dico che è proprio questo il momento in cui noi dobbiamo riprendere a lottare per riprenderci quei diritti di controllo sul potere politico che via via ci sono stati negati e che sempre più con questa riforma ci verranno come ho tentato di spiegare seppur brevemente negati. Ultimo flash, ultimo spot perché credo che verrà tirato in ballo. Il tema dei costi. Questa riforma ridurrà di pochissimo i costi di spesa per lo Stato. è stato calcolato dalla ragioneria dello Stato circa 50 milioni. Ebbene io voglio dire che prego all'anno ecco perciò se non vogliamo diciamo prenderci in giro tra di noi dobbiamo dire che non si può parlare di risparmio vero in questo caso quando per esempio vengono spesi 500 milioni per le scuole paritarie cosa che peraltro la Costituzione vieterebbe quindi senza oneri per lo Stato le scuole paritarie possono essere istituite ma la storia della Repubblica ci ha insegnato che invece contro la Costituzione sono stati sempre dati i soldi alle scuole paritarie per cui io questo dico e concludo veramente dobbiamo riprenderci il controllo noi cittadini sulle istituzioni l'unico modo per cominciare a farlo perché non sarà esaustiva come atto è quello di votare no perché dal voto contrario a questa riforma che estremizza i problemi che ci sono stati in questo periodo può iniziare un processo quello sì di vera riforma la riforma che si chiede e cerca di attuare ancora di più quel principio democratico sancito innanzitutto dall'articolo 1 bene bene grazie dottor Barone come possono capire i nostri telespettatori da casa di carne a cuocere ce n'è tantissima adesso passeremo la parola all'onorevole Venitelli poi dopo nella terza parte ripartiremo con la ricostruzione storica che andrà fino ai giorni nostri di Antonio D'Ambrosio e un appello finale onorevole Venitelli il dottor Barone ha detto tante cose ha detto che il rapporto tra Stato e Regioni non cambierà se non in peggio ha parlato dei costi che dovrebbero diminuire ma a suo dire non sarà così e di tutta un'altra serie di questioni che ha posto sul tappeto rispetto alle quali chiaramente lei ha delle opinioni assolutamente divergenti riprenda lei la parola e faccia a questo punto il suo intervento magari partendo proprio dal rapporto Stato-Regioni noi viviamo una regione molto piccola che ha molti problemi io mi sono scritta un po' di cose che ha detto il dottor Barone al quale do il mio in bocca al lupo per una futura carriera da costituzionale diciamo adesso aspirante aspirante costituzionale insomma laureato da poco lui è partito dicendo noi dobbiamo riprenderci il nostro futuro dobbiamo riprenderci la democrazia e per questo motivo dobbiamo votare no chi vota no lascia le cose come stanno questo penso che nessuno me lo possa contestare questa costituzione ha provocato questo rapporto probabilmente da quello che dice lui per l'amore del cielo la sintesi sto facendo la sintesi del ragionamento del del dottor Barone questa costituzione ha provocato questo scollamento esistente ad oggi tra i cittadini e la politica ha detto anche nel futuro noi non avremo più la possibilità che i cittadini diventino senatori ma saranno i politici che diventeranno senatori dottor Barone io sono figlia di Pescivendolo chi sa la mia storia sa che io diciamo ho preso le borse di studio ogni anno per poter studiare e sono qui grazie oggi probabilmente a quella carta costituzionale a quella carta costituzionale che i diritti li ha dati a me li ha dati a lei e gli ha dati agli altri la scuola pubblica ce l'abbiamo tutti e ci ha dato la possibilità appunto la scuola pubblica e uno stato che ha creduto nella scuola pubblica di poter investire su giovani come me penso immagino anche come lei con le borse di studio io ho preso per tre anni la borsa di studio perché papà mio non è che si poteva permettere di potermi mandare all'università tra l'altro all'epoca mia non c'era l'università nel Molise però questo era negli anni Ottanta dagli anni Ottanta ad oggi il mondo è cambiato e le cose sono radicalmente cambiate oggi non c'è più quella che era un approccio alle cose della vita forse della vita forse anche più semplici che faceva dire a noi ragazzi degli anni Ottanta che non avevamo tutte le esigenze che oggi hanno i nostri ragazzi i nostri giovani perché? perché c'è un mondo diverso un mondo globalizzato dove diciamo se non sei su internet sei fuori dal mondo e allora perché noi abbiamo fortemente voluto riformare la terza parte della Costituzione non un terzo della Costituzione dottor Barone lei da aspirante costituzionalista avrebbe dovuto sentirmi un po' di più abbiamo voluto modificare abbiamo tentato di modificare stiamo tentando di cambiare le cose in Italia proprio per quello che lei stava dicendo prima per quello scollamento tra la politica e la gente le persone non ne possono più di vedere mille parlamentari ne togliamo 315 questa è la vera riforma che la politica fa di se stessa lei mi ha detto è impossibile che una legge ci vogliano 880 giorni e questa è una delle leggi dove si è impiegato meno tempo proprio per quel motivo vede io l'ascoltavo con grande simpatia e gli auguro che nel futuro lei possa avere un'esperienza parlamentare perché spero che se lo vorranno i cittadini ma guardi dottor Barone lei da cittadino diventerà un politico visto diciamo che sta facendo questo probabilmente per avere anche una certa visibilità io gli auguro un domani di poter vivere una vita una vita una vita politica io lo faccio perché tengo alla nostra costituzione senta dottor Barone che lei dice così dottor Barone chi conosce chi conosce la mia storia politica sa diciamo che io faccio politica veramente soltanto per passione ho uno studio infatti lei sta accusando me io non ho accusato lei mi perdoni lei ha detto delle cose lei ha detto lei ha detto delle cose molto forti e io sto rispondendo le cose forti che lei sta dicendo siamo dentro allora noi abbiamo tentato stiamo abbiamo fatto una cosa grande importante riformare la politica italiana togliendo quella parte il senato con quelle funzioni il senato interviene su ogni cosa su ogni legge lei ha detto in due giorni io appunto stavo dicendo l'ho sentita con simpatia in due giorni neanche una legge voglio dire neanche un regolamento comunale si riesce ad approvare perché? perché c'è nel rispetto della democrazia in quelli che sono i principi democratici di questo Stato l'obbligo di farle analizzare a ciascun parlamentare di farle passare per le commissioni di dare il tempo per gli emendamenti questa è la democrazia lei non può parlare di democrazia e poi dire che una legge si va in due giorni come se fossimo in uno Stato totalitario negli Stati totalitari si vanno in due giorni noi abbiamo registrato in 70 anni di politica dottor Barone non perché lo dice Laura Benitelli che è una passionaria della politica avvocato dico io sempre e lo sono continuo ancora a svolgere la mia professione col tempo residuo che posso che posso utilizzare dalle tante cose che mi prendono perché diciamo si cerca sempre di dare un contributo dal punto di vista legislativo nazionale un contributo alla nostra terra cercando di fare quello che possiamo diciamo nei limiti delle nostre competenze legislative è chiaro che non sono un consigliere regionale non dovrei interessarmi specificamente ma soltanto della questione italiana ciò nonostante insomma cerchiamo di dare un contributo su tutto stavo dicendo che è proprio della democrazia la possibilità di farlo in modo che una camera che un parlamentare abbia il tempo per studiare una legge per fare gli emendamenti l'amanti in commissione poi ascolti ogni volta che fai una legge tipo quella sulla tortura ascolti il consiglio diciamo ascolti magistrati ascolti avvocati quelli che ti devono dare un supporto tecnico lo fai alla camera e lo fai al senato due camere fotocopia il tema è questo due camere fotocopia non ce n'è bisogno ma ce lo dicevano i partigiani che non c'erano bisogno di ciò io gli ho citato la Rocca uno dei primi partigiani faceva l'avvocato e difendeva i partigiani contro il regime fascista la Rocca fortemente in tutti i suoi interventi ha detto diceva che la seconda camera sarebbe stato un freno per questo paese sarebbe stato quel freno e lo dice anche Togliatti nel primo congresso dei comunisti italiani un freno per evitare che si possa decidere questo è il tema dottor Barone non è diciamo evitiamo di fare populismo la gente ci ascolta perché vuole capire io quello che posso dire alle persone e lo dico sempre questo non ho timore di dirlo che quando abbiamo iniziato a diciamo studiare la terza parte della Costituzione in modo per non stravolgirla per aggiornarla perché 70 anni fa si facevano ragionamenti diversi da quelli di oggi oggi io l'ho detto prima noi abbiamo i ragazzi che stanno sul sito web sui sui siti che diciamo conoscono come mettersi in contatto con il mondo quando non dico 70 anni fa ma dico 30 anni fa io per comunicare con i miei zii in Australia era una cosa enorme qualcuno se lo ricorderà se lo ricorderà oggi lo si fa via Skype lo si fa con un Whatsapp lo si fa con un telefono diretto perché rispetto ad una civiltà che è cambiata che giustamente lei dice noi giovani oggi ci troviamo distanti rispetto alla politica probabilmente perché questa organizzazione dello Stato che è quella sulla quale noi siamo intervenuti oggi è un'organizzazione vecchia e abbiamo la necessità di migliorarla in tutto il suo intervento dottor Barone mi sembrava di ascoltare una persona ma neanche mio nonno avrebbe portato così mi perdoni se la dico questa cosa perché i giovani i giovani probabilmente da noi che stiamo che siamo i politici da noi si aspettano il cambiamento quello che abbiamo avuto fino adesso quello che c'è ancora la Costituzione che noi abbiamo in vigore ha provocato questo oggi noi vorremmo cambiare io vi garantisco che questo è una delle tante cose che dico quando faccio gli incontri con le persone sulla riforma costituzionale che il mio primo approccio fu un approccio di preoccupazione è chiaro cambiare una cosa che sono 70 anni che è in vigore non è facile è coraggioso allora lei prima ha detto le regioni io ho ascoltata dice questa riforma non cambia niente perché le regioni sempre ci hanno i portelli poi dopo un po' lei ha aggiunto eh però poi tutte le regioni perderanno perché ci sarà un accentramento di potere a Roma che poi tra le regioni le poverelle le 15 regioni che hanno speso dal 2001 ad oggi 100 miliardi di euro 100% ma la Sicilia rientra lei da aspirante costituzionalista sa che nell'assemblea costituente ci fu un ragionamento diverso per queste 5 realtà diverse che aspiravano al separatismo lei lo sa questo allora dottor Barone le riforme si fanno un po' alla volta oggi noi non abbiamo toccato l'assetto costituzionale regionale perché altrimenti lei sa si sarebbe potuto intervenire anche su quello che è un tema che a noi preoccupa tanto quella della nostra autonomia oggi noi siamo intervenuti su quella terza parte della costituzione che dice il Parlamento riformato il governo non è toccato e poi mi deve dire la norma che dice sotto sotto perché lei ha detto io sotto sotto vado a vedere una norma che dà più potere al Premier che non scusa sotto sotto e mi impegno questo è quello che ha detto lei a capire dove sta di solito le norme è di solito sempre le leggi soprattutto quelle costituzionali sono passate sei volte tra la Camera e il Senato sono leggi chiare e se non c'è la chiarezza come dice l'ordinamento giuridico la chiarezza la trovi in quelli che sono i dibattiti parlamentari sulle regioni 100 miliardi di euro spesi in maniera non consola dal 2001 ad oggi vogliamo lasciare che le cose restino così bisogna votare no vogliamo tentare di cambiare e cambiarle veramente bisogna votare sì questo è il tema oggi sulla sanità noi non avremmo avuto una regione commissariata se fosse già stata diciamo entrata in vigore questa riforma costituzionale che dice che dice che dice che dice che sì dottor Barone con grande disponibilità i LEA sono i livelli essenziali di assistenza verranno definiti diciamo a livello generale dallo Stato le regioni avranno una funzione se vogliamo di e come io cerco di spiegarla così perché non stiamo facendo una lezione di diritto cerco di spiegarla così ai nostri elettori che saluto scusate prima io non ho fatto il saluto e il ringraziamento a Telemolise e al Pasquarino Di Bello che ci hai appunto invitato anche un saluto caloroso al nostro amico Antonio D'Ambrosio con il quale tra l'altro stiamo facendo anche un percorso di spiegazione di quelle che possono essere le ragioni del sì e le ragioni del no sui livelli regionali stavo dicendo la legge dello Stato nel momento in cui verrà applicata la riforma se passerà il sì avrà il compito di definire la cornice di quelle che è la sanità nazionale e oggi non funziona ma glielo devo dire io come funziona ma non funziona ma non funziona così esattamente proprio per niente noi abbiamo la cornice e le regioni dovranno andare a fare esecuzione di quella cornice una programmazione all'interno di quella cornice lei probabilmente fa riferimento a quella che è la distribuzione delle risorse all'interno della conferenza Stato di Giorgio quella è la parte in cui io mi vado a dividere i soldi non è la parte nella quale faccio le scelte programmatiche generali nella regione Molise questa ipotesi noi un po' l'abbiamo già vissuta perché noi abbiamo un commissariamento ricordiamolo che noi abbiamo un commissariamento commissario del diciamo del del governo del nostro governo italiano ecco ma un commissariamento che viene da lontano dobbiamo ricordarlo questo perché oggi ecco io approfitto pure per dire diciamo che noi ci troviamo in una situazione che abbiamo ereditato ma l'abbiamo ereditata probabilmente perché perché nel momento in cui c'è stato il cambiamento del 2001 delle funzioni delle regioni perché bisogna domandare al presidente assessore regionale che non ero era Peppino Astore quando c'era lui le cose funzionavano diversamente perché erano diverse le competenze non forz'altro quando noi parliamo di 100 miliardi di euro spesi in maniera inappropriata è esattamente questo quello che diciamo lei ha detto dottor Barone noi abbiamo un paese devastato ma il paese devastato la riforma deve essere ancora confermata dal popolo italiano quindi il paese devastato con le leggi che abbiamo oggi e che noi vorremmo fortemente cambiare il nostro contributo non l'abbiamo dato in Parlamento adesso tocca al popolo sovrano è chiaro se il popolo sovrano deciderà che le cose devono rimanere così come ne prenderemo atto bene una breve pausa pubblicitaria poi ridiamo la parola ad Antonio D'Ambrosio stasera abusato della sua cortesia ma Antonio D'Ambrosio è di casa e quindi gli toccheranno anche cose peggiori di questa di essere restato in silenzio per un po' di tempo pausa pubblicitaria ritorniamo in studio con l'intervento conclusivo quello storico di Antonio D'Ambrosio e poi l'appello finale dei due nostri ospiti pausa bene eccoci di nuovo in studio terza e ultima parte di Millibar questa sera ci siamo occupati del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre bene ripartiamo però adesso non dai nostri ospiti che hanno sparato cartucce a dismisura chi per il sì chi per il no ma da Antonio D'Ambrosio che stasera ci sta proponendo una ricostruzione storica di quello che è stato il processo di evoluzione costituzionale ci siamo fermati con il suo intervento a quelli che sono stati gli snodi centrali che hanno portato alla costituzione repubblicana Antonio ripercorriamo adesso le tappe che ci hanno portato ad oggi e poi andiamo all'appello conclusivo dei nostri ospiti insomma discutere della costituzione abbiamo visto anche dai nostri due amici è caldo è vivace ma c'è la passione politica per la democrazia e quindi la partecipazione e l'informazione credo che sia essenziale ed era anche lo spirito stesso della norma costituzionale che consente un percorso di modifica aggiornamento della stessa costituzione tant'è vero che se non è superata dai tre quinti votata dai tre quinti dei parlamentari a camere unite c'è il referendum perché si possa esprimere che i cittadini si possano esprimere questo è l'altro aspetto e si sta utilizzando questa norma della costituzione per far esprimere i cittadini perché la camera non ha superato i tre quinti le altre aggiustamenti ci siamo fermati al 63 alla regione molise c'è stato un tentativo del presidente segni poi per altri problemi di malattia è fallito insomma quel tentativo di revisionare la costituzione e ci sono stati aggiornamenti durante quel periodo dal 63 all'83 negli anni 80 sembra in relazione ad eventi sociali forti che la nazione ha avuto vedi la notte buia della repubblica per esempio i nostri parlamentari hanno come dire ragionato su come eventualmente la costituzione in un dato momento possa essere aggiornata rispetto ad un'attualità di quel cogente momento e qui veniamo per la prima volta ad elaborare congiuntamente un'ipotesi di modifica alla carta costituzionale in alcuni articoli nel dibattito i nostri telespettatori hanno capito perfettamente che i punti più salienti del dibattito del cambiamento tra le ragioni del sì e quelle del no è la forma di governo che in questa circostanza direttamente non viene presa in considerazione ma nel tempo è stato presa in considerazione il bicameralismo perfetto la riduzione dei parlamentari e quindi il costo della politica e l'aggiustamento di funzionamento di alcune attività o di organi costituzionali sono questi i tre punti sostanzialmente dove si sono soffermato quindi viene eletto nel 1983 una commissione bicamerale formata da vendi e vendimenti Camere e Senato dirette da allora onorevole bozze liberale storico liberale del partito liberale dello stesso partito per vedere gli aggiornamenti o modifiche alla carta costituzionale il dibattito anche in quella circostanza si volevano come dire vedere nel retaggio breve retaggio storico che c'era stata per la carta costituzionale del 48 dove modificare anche lì si andò in qualche maniera ad evidenziare questi punti di riferimento naturalmente non se ne fece niente come la bicamerale perché la bicamerale perché era un tentativo di ripercorrere metodologicamente la stessa cosa fatta dalla carta costituente come nasceva la costituente di trovare un accordo vasto attorno a un'ipotesi di cambiamento e allora si facevano le bicamerali dopo questa bicamerale che si è sciolta e non ha avuto nessun esito per la verità se non documenti e riflessioni è stato fatto un'altra bicamerale questa volta questa bicamerale del 92-94 era ricordata insomma la bicamerale Nilde Jotti l'onorevole Nilde Jotti e De Mita e anche lì si concentrò con le posizioni dei vari partiti politici ma sulla spinta sembra sociale molto forte della tenuta democratica della nazione sui fatti del terrorismo in modo particolare e dello scombaginamento mondiale che stavano accadendo in quel periodo e quindi anche questa commissione bicamerale tentò di un approccio della stessa natura precedente di trovare i punti di convergenza attorno alle riforme della carta costituzionale la cosa decade anche purtroppo questa esperienza non si trovò nessun accordo allora le forze principali lo ricordiamo ai nostri telespettatori specialmente ai più giovani era la democrazia cristiana il partito comunista poi c'erano gli altri partiti naturalmente il partito socialista in modo particolare che allora era diretto da Bettino Craxi non si trovò nessun accordo e anche questa bicamerale si sciolse però i punti naturalmente rimanevano sempre gli stessi di ragionamento il problema era le funzioni che doveva assumere il senato per esempio o spostare i poteri del parlamento e quindi direttamente dei cittadini al presidente del consiglio e quindi al premiariato ed era un dibattito che appassionò quelle generazioni e quella classe politica naturalmente ma purtroppo non arrivò a nessun punto sulla scorta ulteriore di quelle esperienze di quella necessità di aggiornare la carta costituzionale venne fatta nel 1997 riprese da Massimo D'Alema un'altra bicamerale arriva e con Berlusconi allora tutti ricordano il patto della crostata sembrava che l'opposizione la maggioranza allora Prodi Lulivo e Forza Italia trovassero un punto di convergenza anzi andò oltre il documento fu portato alla Camera fu votato ma poi nelle letture successive come ricordava l'On. Venitelli che ci sono più letture per la modifica della carta costituzionale in quelle circostanze a un certo punto Forza Italia non era più d'accordo sul programma e sul progetto di quella natura la particolarità che aveva questo bicameralismo si concentrava molto sulla riduzione dei debutati e senatori non solo di una sola Camera del ruolo del bicameralismo perfetto rimaneva sostanzialmente intatto perché veniva individuato come contrappeso ai poteri del governo di controllo mentre spostava l'attenzione molto sull'autonomia locale quindi il titolo quinto che si stava parlando proprio testè qui in studio cioè le autonomie locali e lì ci fu sulla spinda anche del separatismo che era minacciata allora dalla Lega un avanzamento di deleghe secondo anche i dettami della Costituzione che prevede le autonomie locali avere maggior deleghe e di dare possibilità alle regioni in particolare dopo la prima esperienza di poter governare e legiferare su altre materie cosiddette concorrente quindi ampliare questo ventaglio di opportunità la bicamerale quindi da Lema fa lì proprio in Parlamento però da questa esperienza che era l'esperienza più matura e dalla necessità di dover ridare risposta a quei punti nasce subito dopo i provvedimenti bassanini che stravolgono un po' gli iter delle procedure amministrative della pubblica amministrazione e viene ripreso il titolo quinto modificato direttamente dalla maggioranza quindi si cambia metodo non più bicamerale dalla maggioranza di centro-sinistra che propone al governo che propone al Parlamento la modifica sostanzialmente del titolo quinto della Costituzione quindi maggiore deleghe ai comuni siccome non è approvata dai tre quindi del Parlamento si va al referendum il referendum conferma ed approva questa riforma questa è una novità in termini assoluta anche di procedura naturalmente perché si è molto discusso se era il caso di che la maggioranza adottasse un provvedimento e non trovasse la strada per poter creare attorno a questa modifica un consenso più vasto in Parlamento naturalmente questa ha inciso molto perché successivamente nel 2006 allora la maggioranza con Forza Italia di Berlusconi fa un progetto e fa inizia l'iter un progetto di rinnovo costituzionale di revisione costituzionale che ripropone al centro una novità sostanziale quello di Berlusconi e che sposta i poteri togliendo una parte al capo dello Stato una parte al Parlamento al Premier al Presidente del Consiglio e in più modifica alcune altre cose sembra dei stessi ragionamenti tra Camere e Senato le procedure eccetera però la sostanzialità di questo provvedimento che era uno spostamento di potere diventava una Repubblica non più parlamentare ma semi parlamentare perché c'era il Premier che aveva maggiori poteri e anche lì l'Italia dibatte tanto su questo aspetto naturalmente non si raggiunse la votazione dei tre consenso dei tre quinti e si andò riferendo l'Italia bocciò nel 2006 in quel referendum e abbiamo quindi di fronte a noi una visione di due procedure diverse fatte dalle singole maggioranze una approvata e l'altra di Berlusconi bocciata di queste e abbiamo una lettura è vero che è datata di dieci anni fa però abbiamo una lettura della volontà popolare dopo di ciò noi ritroviamo attorno e stiamo nell'attualità salto parecchie altre cose insomma anche per non farlo troppo lungo nei dettagli ritroviamo la proposta Boschi che ha la stessa procedura della maggioranza del Parlamento di cui si sofferma come dicevo prima sul bicameralismo perfetto quindi sul Senato che è quindi la sua come dire depotenziamento in qualche maniera del Senato da assegnando in parte anche un altro ruolo e le modalità di essere eletta diversamente e molto si è discusso e quindi stiamo all'attualità non entro nel merito molto si è discusso su quanto sia credo che sarebbe anche utile se i nostri interlocutori ne vogliono parlare di quanto sia utile perché in tutte le previsioni di riforma tutti sottolineavano la stretta correlazione del sistema anche elettorale perché in qualche maniera indirettamente il sistema elettorale può condizionare la riuscita o meno dello stesso progetto costituzionale cioè gli dà sostanza a questo progetto Bene grazie Antonio D'Ambrosio che è stato come dire di una chiarezza esemplare non era facile ripercorrere un cammino iniziato nel 1948 e arrivato ad oggi siamo alle conclusioni all'appello finale io prego siamo andati lunghi come si suol dire con i tempi io prego i nostri ospiti di sintetizzare a questo punto le loro posizioni l'appello finale del dottor Barone per quello che riguarda il no e poi ascolteremo per il sì l'onorevole Venitelli dunque vorrei chiarire ulteriormente il mio pensiero che prima è stato abbastanza ampio ma che voleva individuare un aspetto e un problema oggi non stiamo bene chi dice no non vuole confermare l'esistente ma semplicemente dice questa riforma aggrava l'esistente quindi questa la tesi che con le argomentazioni ho cercato di dimostrare anzi che abbiamo cercato perché io sono rappresentante di un comitato che ho l'onore di rappresentare che mi ha eletto portavoce e quindi sono qui proprio per presentare le istanze di questo comitato e sono qui esattamente come l'onorevole Venitelli con la quale condividiamo la passione per la Costituzione entrambi siamo qui per difendere le nostre idee diverse ma di passione sulla Costituzione cerchiamo entrambi visibilità non per noi stessi ma per esprimere le nostre idee e io adesso ho ascoltato con interesse le argomentazioni e non con simpatia della onorevole Venitelli e mi accingo a spiegare brevemente le mie a riassumere dicevo questa riforma peggiora l'esistente perché allontana i cittadini come tentavo di spiegare dal diritto di voto ed è un fatto cioè il Senato non lo sceglieremo più noi l'auspicio di riformare il bicameralismo perfetto che io potrei anche ritenere condivisibile non viene adempiuto in maniera adeguata perché perché il bicameralismo resta e resta perfetto per una serie di materie come ad esempio la revisione costituzionale che è la materia più importante le leggi che riguardano l'attuazione dei trattati europei dove l'Europa e nell'Europa che oggi vengono prese molte delle decisioni importanti e tutta un'altra serie di leggi che saranno rilevanti il Senato dovrà votare su queste leggi pur non rappresentandoci direttamente e l'onorevole diceva giustamente rispetto alla situazione di problematicità che io descrivevo è stata possibile la situazione di problematicità anche a costituzione attuale vero ma io dico che qual è la causa primaria non è la costituzione ma è stata sono tante in particolare è stata a mio avviso una legge elettorale cui faceva riferimento giustamente il presidente D'Ambrosio una legge elettorale di tipo iper maggioritario che era il Porcellum che ha dato a quattro legislature delle maggioranze drogate che non erano lo specchio delle forze che c'erano nel paese e quindi io credo che il Porcellum abbia creato un gap di collegamento tra i cittadini e gli rappresentanti questo gap non solo non viene risolto dalle leggi attuali sia di riforma costituzionale che la legge elettorale italicum ma addirittura secondo me viene aggravato viene aggravato perché un ramo del Parlamento non lo eleggiamo più perché vengono ridotti il quorum e viene cambiata l'elezione degli organi di garanzia come il presidente della Repubblica ad esempio che oggi dalla quarta votazione in poi viene eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune che significa la maggioranza assoluta dei componenti invece dalla settima votazione dice la riforma verrà eletto dai tre quinti ma di chi? dei presenti in aula anzi dei votanti e questo è un problema perché il quorum dipenderà da chi è in aula e perché prevedere una previsione del genere all'interno di una riforma anche la Corte Costituzionale riceverà dei problemi perché due membri della Corte verranno nominati dal Senato tre dalla Camera con un'evidente sproporzione perché si sono ridotti di tanto i membri del Senato da 315 a 100 ma la Camera è stata lasciata a 630 quando una diminuzione equilibrata sarebbe stata di entrambi i rami del Parlamento e quindi un Senato che si vorrebbe avesse meno poteri in realtà ha più poteri in proporzione della Camera rispetto all'elezione dei giudici costituzionali quindi poi le questioni che abbiamo toccato riguardo al titolo quinto io dicevo che alcune cose quelle problematiche non cambiano in più vengono aggiunti nuovi problemi quindi anche qui secondo me la cura è peggiore della malattia peraltro non uso l'argomento che il medico è lo stesso che ha prodotto i danni per esempio nel 2001 perché la maggioranza è quasi la stessa perché non voglio usarlo perché è chiaro che io non sono contro le persone non so nemmeno se l'onorevole era parlamentare non mi interessa però dico è il metodo che è sbagliato è un metodo a cui prima si faceva riferimento di riforme costituzionali fatte a colpe di maggioranza e questo è un metodo sbagliato perché la Costituzione per noi deve essere la casa comune di tutti quanti allora per concludere io dico una riforma che aumenta sostanzialmente anche attraverso la legge elettorale italicum che è sostanzialmente uguale al porcellum aumenta i poteri del governo una riforma costituzionale che accentra allo Stato competenze che dovrebbero essere distribuite sul territorio nell'ottica della collaborazione e non dello scontro è una riforma che peggiora l'esistente e ci fa ulteriormente proseguire lungo il cammino del distacco tra la politica e i cittadini questo noi non lo vogliamo e diciamo che il no rappresenta il primo passo per il vero cambiamento del paese per l'inversione di tendenza sono i cittadini come dice l'articolo 1 della Costituzione ad essere al centro non più i politici bene grazie dottor Barone onorevole Venitelli adesso tocca a lei l'appello finale per quel che riguarda il sì allora i cittadini che sono nelle istituzioni e che sono politici hanno pensato che quello che c'è stato fino a oggi che c'è ancora andasse cambiato io ho ascoltato ancora attentamente anche con simpatia il dottor Barone e comprendo che quando si vogliono fare diciamo quando si vuole sostenere una tesi senza avere una una diciamo così degli elementi confortanti su quella tesi ci si arrampica sugli specchi ho sentito dire fino ad ora che il bicameralismo perfetto cioè le due camere fotocopia in verità con la riforma non viene cancellata è falso lo dico senza timore di essere smentita è falso perché perché la camera dei diputati che sarà quella che darà la fiducia al governo noi abbiamo visto che per poter avere la fiducia questo il precedente governo è stato un governo composto tra più forze politiche anche contrapposte tra di loro Forza Italia e PD è falso perché le leggi verranno approvate dalla camera dei diputati tranne alcune tranne alcune quindi non tutte quindi non c'è la camera fotocopia il senato fotocopia tranne alcune che sono quelle che interessano le regioni e sulle leggi che interessano le regioni parteciperanno i senatori regionali è falso che i senatori regionali non verranno eletti dal popolo bisogna ricordare quella che è stata la battaglia dello stesso partito democratico che ha diciamo ottenuto con l'emendamento della Presidente di Finocchiaro la possibilità di fare in modo che appunto i senatori con una legge successiva perché ci sarà una successiva legge ordinaria si stabilirà come verranno votati ma la Costituzione la riforma dice chiaramente che dovrà essere rispettata la volontà popolare nessuno vuole toccare la volontà popolare non abbiamo noi né la voglia né l'interesse né la passione né il DNA per cambiare la volontà popolare perché siamo democratici dentro è il falso che diciamo che la legge elettorale è una legge che è come dice qualcuno incombinato disposto con la riforma perché la riforma costituzionale è una riforma che viene che per essere approvata ha bisogno di un referendum della doppia lettura si dice dal doppio passaggio alla Camera del doppio passaggio al Senato mentre la legge elettorale è una legge ordinaria che non ha bisogno di tutta questa diciamo di tutta questa procedura e la legge ordinaria potrebbe essere cambiata domattina potrebbe essere cambiata tra un anno la legge ordinaria è una cosa la legge la riforma costituzionale è un'altra cosa fermo restando che proprio in questi giorni in queste ore si sta ragionando su un'ipotesi di cambiamento anche dell'Italicum che non è il porcellum il dottor Barone sicuramente lo saprà si sta facendo si sta tentando di fare io lo posso dire una cosa io sapete che mi occupo a livello nazionale per il partito democratico di politica della pesca quando ho sentito il dottor Barone mi sembrava quasi di sentire una fruttura di cose di gusti del mare perché quando si dice che non si fa cioè il bicameralismo resta e però diciamo ci aveva provato nel 2001 la nostra parte politica che adesso sta facendo una cosa diversa nel 2001 chi portò avanti il federalismo regionale fu uno che si chiama Dalema che oggi è con te per il no non con noi per il sì simpaticamente io rispondo anche al tema dell'elezione del Presidente della Repubblica Presidente della Repubblica ci sono stati casi nei quali ci si è andato 30 volte più di 30 volte per eleggere un Presidente della Repubblica non è pensabile che un Paese che un Parlamento si riunisca più di 30 volte per eleggere il proprio Presidente della Repubblica oggi noi con la riforma abbiamo introdotto un cuore molto alto i tre quinti che ad un certo punto diventano i tre quinti dei votanti il dottor Barone dice ma se le persone non ci stanno finisce che lo votano soltanto i presenti chi diciamo è deputato ad eleggere il Presidente della Repubblica non può andare a passeggio per via del corso deve rimanere in Parlamento ad eleggere il proprio Presidente della Repubblica e se non lo fa a questo punto il popolo sovrano lo potrà legittimamente prendere a caccia nel sedere scusate se uso questo forte neologismo ma quando si parla di Costituzione quando si parla di democrazia non si possono usare degli esempi così banali e così diciamo esempi che veramente allontanano le istituzioni dalla gente io ribadisco io penso che questa sia rispetto a tante cose che sono state fatte in tanti anni la vera diciamo il vero messaggio che la classe politica quella che io definisco un po' più attenta e un po' più matura vuole dare al proprio elettorato noi oggi diciamo a voi votate sì per riformarla la politica perché togliere 315 senatori io volevo aggiungere alle riflessioni che ha fatto l'ottimo Antonio D'Ambrosio che la bicammerale di D'Alema prevedeva in un primo momento la eliminazione dei senatori ma furono i senatori stessi a diciamo a elevarsi in maniera molto forte nei confronti di D'Alema a dire noi da qui non ce ne andiamo qualcuno mi dice ma tu sei sicura che i senatori voteranno sì io sono convinta che i nostri senatori voteranno sì perché sanno che questa è la partita è la scelta è la partita epocale noi diciamo a voi popolo italiano aiutateci a riformare la politica noi ve l'abbiamo dato questo messaggio 315 senatori di Mino una camera che dà la fiducia processi legislativi molto veloci e molto semplici regioni che avranno poteri all'interno di quel quadro di cui parlavo prima eviteremo di spendere per il futuro gli altri 100 miliardi di euro impropriamente spesi dalle regioni ragione per la quale anche gli appannaggi dei consiglieri regionali verranno drasticamente ridotti voglio dire non è un caso che tutti i consiglieri quasi tutti i consiglieri regionali non tutti per l'amore del cielo quasi tutti i consiglieri regionali hanno costituito i comitati del no perché noi andiamo a toccare con questa riforma e mi dispiace che un giovane come te dottor Barone la sostieni andiamo a toccare con questa riforma i privilegi i privilegi non se ne può più i parlamentari vengono ridotti da 1000 a 600 i consiglieri regionali avranno questa partecipazione senza onere a carico dello Stato per quanto riguarda quelli che verranno eletti con la scheda voi sapete come funzionerà con una seconda scheda verranno eletti i consiglieri regionali senatori e c'è questa proposta di legge che è stata sposata dal partito democratico nell'ultima assemblee nell'ultima direzione sulla quale chiaramente si sta ragionando perché diciamo è sempre una proposta di legge che dovrà essere poi approvata dal Parlamento quindi dicevo processi legislativi più facili voto di fiducia di una sola camera e quindi stabilità di governi regioni con poteri che andranno all'interno di quella cornice stabilita dallo Stato di modo che il cittadino molisano avrà gli stessi diritti e le stesse prerogative e gli stessi vantaggi del cittadino lombardo forte riduzione dei costi della politica e quindi anche eliminazione dei privilegi io continuo a dire che è coraggioso votare sì è diciamo tranquillo votare no perché votare no non cambia niente e le cose restano così come sono votare sì significa avere coraggio avere diciamo la speranza che in questo paese la politica si riavvicina ai propri cittadini bene io ringrazio l'onorevole Venitelli che ha parlato qui questa sera a Millibar ci siamo occupati di riforma costituzionale del referendum del prossimo 4 dicembre ha rappresentato le ragioni del sì ringrazio il dottor Barone che è portavoce del comitato per il no in Molise che ha rappresentato le ragioni del no e entrambi hanno fornito spunti di riflessione a casa credo che anche questo sia come dire una delle funzioni dell'informazione spesso siamo abituati ad ascoltare dei talk show nazionali dove fanno passerella in tanti nomi che ritroviamo molte volte in televisione questa sera abbiamo dimostrato che anche il nostro territorio esprime delle personalità di livello perché il dibattito è stato spomenciante tra l'onorevole Venitelli e il dottor Barone e ringrazio Antonio D'Ambrosio che ha fatto questa sera più che mai la parte dello storico ricostruendo quella che è stata l'evoluzione della nostra carta costituzionale dal 1948 ad oggi attraverso quelli che sono stati i vari tentativi di riforma torneremo qui a Millibar da qui al 4 dicembre nuovamente sul tema referendum con ospiti che si susseguiranno perché è un tema molto molto sentito a casa e molto sentito dagli italiani e molto sentito dai molisani quanto a Millibar torniamo la prossima settimana sempre puntuali alle ore 21 su Telemolise e in replica alle ore 16 il giovedì sempre sulla rete Ammiraglia Telemolise a voi tutti da Termoli da me e da Alessandro Nardella buonanotte e buona fortuna asia page l'arri a 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 Grazie a tutti.